Siamo al Cinecittà Film Festival, alla quarta edizione al Parco degli Acquedotti e oggi è l'ultima serata, stasera abbiamo in programma tra i capolavori di Cinecittà, i film prodotti in parte o totalmente negli studios di Cinecittà, abbiamo Lavorare con Lentezza. Siamo qui con Guido Chiesa. Guido, ti vorrei chiedere, in merito appunto al lavoro negli studios e alla produzione cinematografica, se tu vedi un futuro reale per la cinematografia sia affermata come te e come altri registi già appunto affermati sia per i nuovi autori e i giovani registi che si stanno appunto approcciando al mondo del cinema. Penso che la possibilità di girare in studi sia un, come posso dire, una cosa molto positiva che si sia persa nel corso degli anni, un po' perché si è puntato troppo esclusivamente sull'abbassamento dei budget, mentre invece ci dimostra il mercato internazionale che non è semplicemente abbassando i budget che si riesce a continuare a produrre. Dall'altro lato invece, e questo però è una critica che faccio proprio all'attuale cimetriliano, soprattutto quello delle giovani leve, l'eccesso di realismo non è necessariamente un sinonimo di una creatività. Esiste tutta una tradizione, anche presente nel cinema italiano, di uso non necessariamente non realistico ma della fantasia come strumento di creazione che si è andata perduta. Girare in studios, anche un film come Lavoro della Conventenza, che era un film molto realista se vogliamo, però girare ad esempio due ragazzi che costruiscono un tunnel di 50 metri picconando, non puoi girarlo nella realtà. Se noi ci fossimo basati, esclusivamente ci fossimo limitati a una rappresentazione realistica, non l'avremmo potuto fare. Invece solamente potendo accedere a studi come quelli di Cinecittà, in cui c'erano maestranze, artigiani capaci di poterlo fare, ci hanno permesso di fare una cosa che io nella mia immaginazione non sapevo come fare. Ecco, la possibilità di girare quello che non puoi sapere come fare è un qualcosa che gli studi, la presenza di studi cinematografici come quelli di Cinecittà permette. Credo che sia una grossa opportunità. Oggi deleghiamo esclusivamente al digitale, ma non è detto che ci sia solamente quello. Filmi come Gigi Robocci hanno dimostrato che il digitale anche a basso costo possono permettere di liberare la fantasia, ma ci sono delle cose che non puoi fare digitalmente. Ci sono delle cose che riguardano la messa in scena cinematografica che la possibilità di girare in studio, come dire, nessun altro modo è migliore di quello che girare in studio. Anche se vogliamo lavorare con lentezza, un altro esempio, la possibilità di spostare le pareti in una stanza. Sembra una cretinata, ma poter mettere la macchina pesa a 360 gradi in una stanza non è possibile se non agire in studio dove puoi muovere le pareti. Noi l'abbiamo fatto appunto con lavorare con lentezza dove spostavamo le pareti. Ed è un'altra opportunità che non vedo perché non fare. È proprio la possibilità di sviluppare la fantasia che gli studi permettono.